Cerdisa interpreta l'argomento della pietra, una delle tendenze principali degli ultimi anni, con la realizzazione di landstone. Partendo da una lastra di pietra calcarea, sono state selezionate delle parti di materia in cui la grafica non era particolarmente invasiva. Sottolineando l'anima un po' minimale e pulita che caratterizza i prodotti e le collezioni di Cerdisa. Le colorazioni in cui è stata sviluppata la serie sono colorazioni molto naturali che appartengono appunto alla pietra di ispirazione. Si parte da un formato 30-60 realizzato con finitura naturale e grip strutturata, le applicazioni sono svariate sia per uso residenziale che per uso commerciale, grazie appunto a questa ampiezza e profondità di gamma. Complementano la serie due tipi di mosaico che possono realizzare delle pareti e delle quinte decorative senza bisogno di una decorazione tradizionale dal forte segno grafico.